Non è il solito talk show, non è il solito dibattito politico, non è il solito programma di magia. Non è leppure il solito programma musicale, è una tv, la prima fatta dai cittadini e senza intermediari. Dopo le dirette, le più viste e commentate, sulle elezioni regionali in Sicilia, Salvo Mandara, reporter per caso, presenta la TV 5 Stelle. Mercoledì, ore 21 e 30. In diretta sul canale Youtube di Salvo Mandara, www.youtube.com barra Salvo Mandara. Per essere sempre aggiornato, iscriviti al canale.